Chi è che è? Ma lui è Bollini? No, no, no. Allora, aspetta, ah, eccolo qua. Vieni, allora, ci sono i tagli? L, M, S, perché... Sono alto ma macro. Ok, c'è adesso per ridarlo? Vieni, ok. Allora, Furfaro, Danny? Vieni, vai, scegli. Poi Alberto, Larice. Ma so chi è l'Alberto. La tengo. No, tienila tu. L'Alberto tagli una S. La tienila tu, ecco, so chi è l'Alberto. No, 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 poi... Poi il numero 5 è festa, Andrea, lui? Taglia. Grazie. Grazie. Allora, poi abbiamo Napoli, Mirko, sesto. Poi abbiamo Davide Anselmi, settimo. Bravissimi. Poi andiamo avanti, Monteleone, Mario. Perfetto, così facciamo un parola veloci. Il numero è Ferrazzo... Ferraz... No, forse c'è un'inversione. Beh, Ferrazzo Sandro e Baldon Lorenzo. Baldon Lorenzo. Eh, non so se l'ottavo o nono, ma non penso sia... Sì, sì, volentieri. Grazie mille. Grazie, Giuseppe. Allora, poi abbiamo Samu, perfetti Samuene, undicesimo. Eccolo lì. Poi è... Biondu Salvatore, spero di averlo pronunciato bene. È giusto? Grazie. Dimmi. Biondu. Oh, guarda, oh. Ha scritto lei, eh. Guarda, lei. Biondu. Colpa sua. Guarda avanti, Negrini Mirko, tredicesimo. Bravissimo. Poi... Marsiglio Stefano, facciamo l'oro. Oh, oh. Grande Stefano. Poi quindicesimo Nitti Tario. Grande Filippo. Questa grande è lui. Poi... Eh, questo... Marcotto, non è che è scritto? Oh, rifiamma Riccardo, spero di aver letto giusto. Eh, capava. Poi, Bordanzi Stefano, che è il diciottesimo. Gasparotto Fulvio. No, questo non glielo diamo. Va bene, dai. Gatto Gianni. Ex-Lonatese. Poi abbiamo Turconi Marco, che è il ventunesimo. Poi il ventiduesimo Bosio Agostino. Eccolo qua, grande Bosio. Ventitré, Cortelezzi Alberto. Ok. Ventiquattro, un'altra Ola, Morello Giovanni. E poi penso alla prima donna, che comunque preva anche il premio, Grasso Anna. Perfetto. Ventisei abbiamo Ceriotti Alberto. Ok. Ventisettesimo, Palmieri Giorgio. Ventottesimo. Allora, io dico il nome che è Alexandre, pensiamo che sia giusto. E' Uo, Uo Oro. Cazzo, ho beccato anche il cognome. Bravissimo. Ventinomesimo, Bassani Vittorio. E l'ultimo che si becca, l'ultima canotta, è Papini Paolo. Per il rotto della cuffia. Per il rotto della cuffia. Trentesimo. Ok, adesso fra un po' facciamo le premiazioni. Comunque spero che per loro sia contenta, la canotta non è mica male. Volevo ricordare che le canotte sono state offerte al 50% dalle assicurazioni generali dove come sponsor che vedete sul reto e il 50% dell'Avis, no? De Cepino. Abbiamo fatto un forfait. Purtroppo tre anni fa, era il 50, quest'anno il 30, ma il prossimo anno, visto che è andata anche bene la manifestazione, magari ricredentiamo la cosa. Vediamo un po', dai. Grazie, a dopo. Premiazioni fra pochissimo. A poco la premiazione, eh? Premiazione fra un quarto d'oro, no? Premiazioni fra un quarto d'oro, no? No, io direi che andiamo a casa. ho capito io devo mangiare 10 minuti 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 10 minuti